LUNEDÌ FESTI SVIZZERA Stamattina tanti pescatori, purtroppo, no dietro, purtroppo hanno fatto fatica solo qualcuno 9-10 kg e adesso facciamo un'emissione di branzini spettacolari, siamo guidati un po' male lui però vabbè, guardate che branzini, prendi Guadino porca miseria, prima metti un po' di acqua sullo scivolo, vai un po' di acqua sullo scivolo, Occhio eh, guardate che branzini, va che branzini Guardate qua ragazzi, vai però, è grosso Marco, dai, dai, vai questo è più piccolo amore questo è più grosso 3 kg questo vittorio grattaccia ma si può prendere i branzini due ne presi due ne ha presi gli altri niente ma ho un fondello questo uomo due per due l'altro due al cestino ma porca lì ma guarda il fondello mangia dopo due giorni grazie a tutti grazie a tutti